Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Facciamo quest'ultimo esercizio di polarizzazione delle Nemos prima di passare al circuito e piccoli segnali per l'amplificazione. Allora, qua il circuito è semplificato, manca la resistenza di SERS, quindi non c'è RS, se c'è, anziché il partitore R1-R2, un RGG e un generatore di tensione VGG che mi fissa il valore della tensione di gate. Ovviamente non essendoci assorbimento di corrente sul gate, la RGG in realtà a riposo non è attraversata da nessun tipo di corrente e quindi non ha caduto di tensione. Quindi diciamo che la VGG, il valore del generatore VGG è anche quello della VGS, quindi tali e quali si ripercuote da una parte e dall'altra. Bene, per affrontare questo esercizio ci vediamo insieme tra un attimo. Bene, qua ho riportato i dati già inseriti nel testo e poi quelli che mancavano, quindi l'alimentazione, il valore di VGG, di RGG e così via. Bene, allora, prima cosa ovviamente andiamo a verificare se il transistor lavora o no in saturazione, quindi verifichiamo se VDS è maggiore di VGS-VGSTH. Quindi VDS è 6, dobbiamo vedere se è maggiore col punto di domanda, a VGS che è pari a VGG, quindi 4, meno la tensione di soglia che è 2 e quindi uguale a 2. 6 è maggiore di 2, sì, e quindi è verificata la saturazione. Verificata questa vale quindi il ID pari a K per VGS-VGSTH chiusa al quadrato. Andiamo a sostituire, allora, 0,5 per 10 alla meno 3, aperta tonda, abbiamo detto VGS pari a VGG poiché non c'è nessuna corrente a livello statico che entra nel gate, quindi 4 meno 2 che usa al quadrato. Allora, qua viene 4 meno 2, 2, 2 al quadrato fa 4 e 4 per 0,5 fa 2, quindi 2 milliampere. Ok, a questo punto andiamo a calcolare la RD. dove RD sarà uguale a la sua tensione che è VDD meno VDS e fratto la ID. Andiamo a sostituire. Allora, VDD è 12, VDS 6, dati del problema, ID l'abbiamo appena trovata, e 2 milli. Quindi sarà 12 meno 6, 6, 6 diviso 2, 3, 3 chilo ohm. Poi tra l'altro anche qua mancava un simbolo di ohm. Ok, e quindi questo è il valore che c'è con questi dati della RD, quindi il valore per cui VDS è 6 volt. Qual è il valore limite, cioè il valore più alto ammissibile che porta, cioè che crea un limite tra la zona di saturazione e no, cioè quindi fa praticamente abbassare il valore di VDS fino ad arrivare a questo valore qui, 2, che è dove è verificato, cioè il limite dove è verificata la saturazione. Allora, per andare, per trovare, per determinare il valore massimo di RD, suppongo il valore peggiore di VDS che è uguale a, possiamo chiamarla la VDS di saturazione, quindi è uguale a VGS meno VGS TH, che abbiamo già calcolato, che è pari a 2 volt. Quindi, andando a ricavare il valore massimo, andiamo a sostituire sempre in questa relazione col valore di VDS che abbiamo messo qua, quindi il valore peggiore, e la ID sempre uguale, quindi avrò una VDD meno VDS SAT, se vogliamo chiamarla, o VDS minima, insomma, basta che capite che cos'è, ID che rimane uguale, e quindi avremo il valore, allora, 12 meno 2 fratto 2 mille, quindi 12 meno 2, 10, 10 diviso 2, 5, 5K, allora, diciamo che con questo valore qua siamo già fuori dalla saturazione, quindi dobbiamo, il valore massimo sarà un valore inferiore a questo valore, quindi il valore massimo che porta al limite, devo scegliere un valore, devo scegliere un valore inferiore, inferiore, poiché con questo sono già... con questo non sono più in saturazione, quindi devo scegliere un valore più basso di questo valore qua, quindi diciamo che al limite della saturazione, questo è già fuori della saturazione, quindi il limite è un valore leggermente inferiore. Bene, con questo ho concluso, spero di aver fatto un po' tutte le tipologie di esercizi per la polarizzazione, eventualmente poi se me ne vengono in mente altri o avete voglia di mandare qualcosa a voi, diciamo che infarcirò ulteriormente la compilation di esercizi e ci dedichiamo poi al discorso della amplificazione. Ci vediamo domani per un altro video. Ciao! 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 Ciao!